salve a tutti e benvenuti o bentornati nel mio canale tetto comic 69 oggi vi voglio leggere una storia che tratta da questo albo i classici disney questo albo lo avevo trovato in un mercatino che avevo recensito già in un video di acquisti e questo è l'album numero 203 dell'ottobre 1993 alla storia è contenuta c'era contenuto nel topolino numero 1729 che era uscito proprio oggi 15 gennaio del 1989 quindi esattamente 34 anni fa la storia scritta da alessandro sisti e disegnata da valerio held si intitola tippetap e il panino emporio da quando i nipoti di topolino gestiscono un locale ebbene tutto cominciato polinia il giorno del compleanno di tippetap sei pronto zio topolino ha promesso sei pronto zio topolino ha promesso di accompagnarci a pranzo dove vogliamo lo so viene anche zia minni io consiglierei quel delizioso ristorante francese dai minni preferiranno certamente una bella pizza niente consigli grazie abbiamo già deciso mangeremo in panindoteca e ma c'è andate quasi tutti i giorni con i vostri amici appunto per una volta vogliamo andarci con voi grandi si mangiano cose troppo buoni e così è un triplo hamburger sopra accessoriato che faccia scura qualcosa non va sì questo posto è il fatto che tippetap ci vengono spesso uno non capisco non capisce che si nutano in maniera indigesta e sregolata e che ciò potrebbe nuocere alla loro saluta a me questo modo di mangiare sembra comodo divertente e poi non conosci tippetap digerirebbero perfino un tramezzino al cemento armato e per finire due special hamburger di compleanno auguri ragazzi dopo il pranzo che abbuffata mangiare panindoteca è fortissimo io farei il pieno di paninazzi tutti i giorni li senti topolino che c'è di strano a tutti i ragazzi piace mangiare moderno storie non hai saputo dir loro una corretta non hai saputo dar loro una corretta educazione alimentare durante la crescita la nutrizione calmati minni forse una soluzione per i tuoi i loro problemi proprio oggi ho ricevuto questa lettera dallo zio topozzo non è quel tuo parente di campagna che abita a top town sì mi chiede notizie dei nipotini non li vede da anni potrei mandarli in vacanza da lui per qualche tempo buona idea così potranno riscoprire i cibi sani naturali e in un paesino dimenticato come quello non troveranno certo paninoteche qualche giorno più tardi tutti ricordi il zio topozzo tap no l'ultima volta che l'abbiamo incontrato eravamo troppo piccoli speriamo che non sia un tipo pizzoso non ci contare mi sa che questa vacanza sarà una barba lo sapremo presto siamo arrivati salve voi dovete essere tip e tap e tu lo zio topozzo vero come hai fatto a riconoscerci dopo tanto tempo siamo cresciutelli non è stato difficile avete le orecchie di famiglia è vero andiamo a piedi la città è piccola io abito vicino ciao topozzo quelli devono essere i tuoi nipoti di città qui ci conosciamo tutti le facce nuove si notano subito ecco casa mia che ve ne pare simpatica deve essere molto vecchia anche il negozio tuo sicuro è un emporio drogheria funziona anche come bar un tempo ce n'erano dappertutto un tempo chissà quando forse all'epoca dei pionieri o magari durante la guerra e secessione se volete potrete darmi una mano vi insegnerò come si gestisce un drugstore che bellezza grazie zio topozzo qui ci sono biciclette canne da pesca quando avevo la vostra età erano i miei passatempo preferiti proprio così ragazzi sono certo che vi diverterete un sacco con il vostro vecchio zio quella sera va persino peggio di quanto avessimo immaginato e chi lo dice a chi lo dice ho sempre sognato di imparare a mandare un amante un emporio non drammatizziamo potremmo andarci a fare passeggiate per tutta la durata delle vacanze finiremo a laureare la natura almeno i letti sono comodi scommetto che domani troveremo il modo di divertirci cosa avete in programma per oggi nipoti esplorare la città ottimo top town offre molti svaghi interessanti proprio quello che speravamo c'è una discoteca e magari anche una paniconoteca mi spiace non so neppure che cosa siano però abbiamo una bellissima biblioteca e già peccato che non sia la stessa cosa abbiamo anche un centro creativo che ne dici deve essere una specie di sala giochi andiamo a dare un'occhiata forse troveremo qualche videogame secondo te a cosa assumi un centro ricreativo non lo so ma dovrebbe trovarsi da queste parti eccolo la ce l'insegna all'ingresso andiamo non vedo l'ora di ricrearmi centro ricreativo top town ma alto che videogiochi qui ci sono solo vette scacchiere tarlate e il tavolo da ping pong non è in condizioni migliori con questa roba veniva a giocare benio meno franklin vorrei sapere cosa fanno i ragazzi del posto semplice ci annoiamo se dei nipoti del signor topozzo vero come vi chiamate io sono tap e lui mio fratello tip veniamo la topolinea siamo qui in vacanza topolinesi beati voi perché io non ci trovo niente di speciali invece sito polio una città grande ci sono video bar concerti rock e fast food qui a top town invece sì ce ne siamo accorti venite facciamo un giro turistico l'estate non è tanto male possiamo fare scampagnate gite in bici e andare a pesca ce l'hanno già detto il periodo peggiore è l'inverno certi giorni mi annoio così tanto che per passare il tempo faccio i compiti terribile eppure sembrate in gamba perché non fate qualcosa per migliorare la situazione non è tanto semplice il problema è che bobby ciao mamma fa una passeggiata con questi nuovi amici sono tip tap di topolinea buongiorno sembrano bravi ragazzi non sarete mica ping bank o qualche altra di queste orribie nuove moda no signora meno male non mi piacciono certe stranese cittadine non tardare a pranzo bobby va bene visto è questo che stavo spiegandovi purtroppo qui gli adulti sono molto antiquati non amano le novità peccato sarebbe stato bello aprire anche qui un locale tosto magari una paninoteca tu pensi sempre al cibo a me piace mangiare comunque è una bella pensata il negozio di sottopozzo potrebbe diventare una bellissima paninoteca hai ragione tip basterebbe mo soltanto modificarlo un po mi spiace dirvelo ma vi illudete il vecchio ottopozzo è il più antiquato della città vero il suo emporio tale quale da tempo del mio nonno sottovalutate nostro zio sarà felice rinnovare il suo locale più tardi siete stati gentili ad aiutarmi con i clienti non è stato faticoso oggi non hai fatto molti affari vero zio non mi lamento guadagno quanto mi basta però se aggiornarsi un po il negozio cambiare il mio emporio che assurdità perché favorirebbe le vendite e invece no qui non siamo in città i clienti scapperebbero inoltre a me piace com'è è andata male eh eh sì purtroppo avevate ragione ziotopozzo crede che se rimorrenasse il locale finirebbe scacciato la città o cose del genere comunque non tutto è perduto dobbiamo agire d'astuzia che vuoi dire basterà attendere il momento opportuno è wow tap sei un genio e l'idea geniale prende forma c'è tutto quanto ci occorre quanto materiale e il magazzino mio padre vende legname ferramenta salve ragazzi serve qualcosa proprio così papà abbiamo bisogno di assi anche di chiodi arnesi e cosa intendete fare con tutta questa roba beh noi vogliamo costruire una cassa su un albero eh un rifugio segreto eh magnifica idea anche io ai miei tempi ne ho costruito uno prendete pure tutto quello che volete e ancora hai trovato addissimi decorazioni sì e sono fortissimi li ho qui dentro bisogna nascondere la scatola ziotopozzo potrebbe scoprire tutto che ne dici di metterla là sotto parli di quel vecchio telefono polveroso proprio così lo zio usa quell'angolo come dimenticatoio non verrà mai a cercare oh tip viene a vedere grandioso chiediamo allo zio come è finito qui zio abbiamo sollevato quel telone in bottega e avete trovato il vecchio scassone l'ho acquistato più di 30 anni fa segua stato quasi subito meglio così era troppo rumoroso per i miei gusti e già capiamo benissimo già che siete qui ho un favore da chiedervi domani devo andare in città per certi documenti potete badare voi al negozio volentieri caro zio evviva così avremo l'occasione per zitto l'occasione per fare cosa tap per dimostrarti che abbiamo imparato il mestiere me lo auguro nipoti comunque tornerò in serata non avrete tempo per combinare i disastri non ne serve molto saremo velocissimi l'indomani mi sembra di non aver dimenticato nulla mi raccomando ragazzi fate bravi parti tranquillo pensavo noi a tutto buondì giovanotti vorrei un bel bicchiere di limonata accomodatevi signora ben ghiacciata specialità la casa che ragazzi modello sentito tipo il treno affischiato lo zio è diventamente partito dobbiamo sbrigarci bevete tutto di un fiato signora così la gustate più ora scusate non dobbiamo chiudere ma se avete appena aperto e non è pure pagato offre la ditta lavate la milonesima cliente spicciati i ragazzi ci aspettano sul retro avete portato tutto mancano soltanto le vernici vado a prenderle io intanto cominciate i lavori davvero tuo zio dice di mettere questa pittura sul suo conto garantito tuo pozzo vuol forse dare un'infrescata le parete del negozio avete indovinato non immaginate quanto diventeranno fresco bla neanche ci provo rosa sciocchi in giallo fosforescente rosso carminio non mi sembra di coloro più adatto per un vecchio temporio ecco a voi tanta tinta benoni siamo a buon punto bobby non hai detto che sei un bravo riparatore sono un fenomeno e allora via il telone colpo di scena un identico jukebox anni 50 troppo forte nostro zio lo chiama vecchio scassoni quando avrò finito dovrò ribattezzarlo super stereo parecchio lavoro più tardi tutto finito devo solo fissare l'insegna venite ragazzi andiamo a vedere che è dragata perfetto topozzo il panozzo deve aver perso almeno 10 kg ma valeva la pena di faticare tanto ehi questa è una panicondoteca molto meglio il panino emporio di nostro zio entrate aperto grandioso vai a chiamare tutti gli amici volo voglio farmi una serie completa di mega panini abbiamo fatto centro invece ci siamo scordati la cosa più importante quale sarebbe un cuoco non è facile fare i panini giusti tranquilli ci penso io il cibo alla mia specialità ah ah dovevamo immaginarlo incredibile visto nessuno resiste ai miei panini e allora tipo lo zio sta per tornare bisogna attivare la seconda parte del piano dobbiamo trovare un'automobile tutto qui facile mio fratello maggiore e motorizzato vi accompagnerà volentieri dove vi porto ragazzi e così appena in tempo ecco lo zio tip tap che cari siamo venuti a prendermi ti abbiamo preparato una sorpresa però devi chiudere gli occhi va bene mi piacciono le sorpresi siamo su un'auto andiamo lontano che meno di quanto pensi e ora poi guarda il zio o che bel locale deve essere l'unico che ritrovi alla moda proprio così un posto come questo deve far soldi dollari appalate infatti li sta facendo non ti piacerebbe che il tuo bardo gheria fosse così o sì ma è impossibile cittadina antica come top top town invece è possibilissimo siamo proprio a top town e questo è il tuo locale lo abbiamo rinnovato noi ragazzi ah ah interessante nipoti cosa il mio emporio disastro cosa penseranno i miei vecchi amici lo sapremo subito li abbiamo invitati all'inaugurazione il dettore della banca la preside e il sindaco bravo tuo pozzo sei un vero affarista hai portato top town all'altezza una grande città finalmente qualche bella novità ma dite davvero lo zio sta scherzando progettava da tempo questa trasformazione sì è vero l'ho medita da lungo siete stati meravigliosi nipoti non sei arrabbiato con noi anzi sono felicissimo e voglio dimostrare la mia gratitudine a voi e ai vostri amici avete credito illimitato nel locale per voi i panini saranno sempre gratis urrà complimenti tip altrettanta tetap qualche tempo dopo top town sono davvero contento di rivedere tip etapa hai avvertito lo zio che saremmo andate a riprendervi naturalmente ha detto che si divertono moltissimo sono certa che scoppiano di salute tutto merito di una dieta genuina e top e topolino cos'è quella è così che segue i miei consigli sono sbalordito non sapevo che ci fosse una penicoteca top town infatti non c'era prima che arrivassimo noi fine grazie dell'attenzione e vi auguro una buona domenica e sempre in tema disney vi dico che sempre nella giornata di oggi pubblicherò un video relativo a un personaggio disney appartenente al mondo dei paperi di quali se vedete nella community avevo già pubblicato una foto chiedendo chi di voi lo conosceva va bene ciao a tutti